Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti, io sono Jul e oggi siamo tornati su Dissidia Opera Omnia. Ho intenzione di iniziare una nuova rubrica dedicata alle co-op settimanali di Dissidia. Mi piacerebbe fare un video dedicato a ogni co-op, le co-op solitamente iniziano il lunedì, per cui questo tipo di video solitamente uscirà il lunedì o al massimo il martedì, e vi farò vedere come affronto io la co-op in questione. In questo video si parlerà di Seles, oggi ha debutato nella versione diciamo americana barra europea del gioco Seles, che è un personaggio molto particolare perché è un tank magico che ha una nicchia molto ristretta, ma nella quale è semplicemente insuperabile. Parlando in termini di Dissidia, Seles è praticamente Snow versione magica, cioè assorbe la magia, protegge gli altri perché mette lo status provocazione sul nemico e riesce a contrattaccare in maniera molto efficace. Purtroppo al di là dei nemici che usano danni magici, Seles è abbastanza scarsa, a me piacerebbe però sono I'm broken right now, come si direbbe in inglese, ovvero non ho gemme da spendere, non ho biglietti da spendere, devo aspettare perché mi rimane un solo banner in cui pullare prima dell'uscita dell'ex, che è il banner di Kuja, ma non è così lontano. Per cui niente, direi che possiamo passare direttamente alla co-op, vi farò vedere l'ultimo stage, quello già dove si lavorerà con gli altri giocatori, e come personaggio porto il mio. Papa Limo, Papa Limo, amo il mio Papa Limo, magari vorrei trovare il menu quello grande. Allora, Papa Limo, vi faccio vedere brevemente com'è, lui è uno dei bonus di questo evento, i bonus sono Seles, Cavaliere Cipolla e Papa Limo. Tutti e tre questi personaggi hanno la 35 CP disponibile perché sebbene nel banner non si possa pullare per la 35 di Papa Limo, abbiamo già avuto modo di prenderla nel banner dedicato al suo capitolo, che se non erro era il capitolo 8. E mi raccomando, se avete la 35 CP di Papa Limo ma non avete la 15, lui è uno di quei personaggi che ha assolutamente bisogno dell'abilità anche della 15, per cui se vi interessa Seles pullate in questo banner e se vi escono degli anatema che sono la sua 15, teneteli, fondeteli perché gli dovete potenziare Astral Fire. Comunque, lui ha la 35 max limit breakata, la 15 max limit breakata, l'armatura 35 max limit breakata, come passive ha, quelle che vi ho già detto, a Mighty Astral Fire, attacco più 108 e speed buff più break brave up, mi piacerebbe fare qualche altro roll per trovargli anche Mighty Umbral Ice, anche se devo dire che questa spread mi piace molto, lui è uno di quelli su cui ho rollato le abilità migliori insieme a Garnet, perché attacco 108 e Mighty Astral Fire sono fondamentali e lui gioca molto bene anche speed buff e break brave up, che ho avuto la fortuna di rollare insieme, per cui sicuramente farò degli altri roll, ma per ora il mio papalimo mi piace così. Detto questo, iniziamo, vediamo un po' chi trovo, mi piacerebbe tantissimo trovare triplo papalimo, perché con lui le cose diventerebbero divertentissime, triplo papalimo in questa coop è tutto, è la vita, è veramente la vita. Ok, allora, partiamo con la prima coop, aspettate che saluto i miei compagnucci, Saz, Seles e papalimo. Per quanto riguarda le evocazioni non sono ancora convintissima, per ora ho usato Sylph, perché ho incontrato spesso triplo papalimo e con triplo papalimo, Sylph e Chocobo vanno da Dio. Qui abbiamo evocazioni un po' miste, abbiamo, mi pare di aver visto Shiva, Chocobo e appunto il mio. Beh, qui direi che partiamo subito a bomba, partiamo subito a bomba, io farò solo Astral Fire, in questa prima fase della battaglia, perché nella seconda fase mi servirà Umbra Lice. Allora, Runic dovrebbe essere, sì, è l'abilità che mette provocazione, come vedete, sull'avversario, e mette anche a Seles Brave Up, mi pare, e assorbimento magico. Ah, io qua continuo la bombarda. Astral Fire, Break, Bomb. Non mi preoccupo assolutamente di sprecare mosse, perché papalimo ha tantissimi usi, è il motivo per cui, insieme alla notevole velocità di gioco, attualmente lo preferisco a terra. Terra sarà abbaffata, quindi la mia opinione su terra è momentanea, ma per ora papalimo le dà veramente 10 a 0, è molto più forte di lei. E tra l'altro ha una versatilità, uh, vediamo l'attacco HP di Seles, bella Seles, molto elegante. Papalimo ha un'eccezionale versatilità, perché ha ghiaccio e fuoco, che sono due elementi che vanno molto d'accordo in questo gioco. Ci puoi fare molti giochi con il ghiaccio e col fuoco, e hai un'ottima coverage. È anche per questo che ho deciso di pullare per Garnet, non vi ho messo il video perché ero in vacanza, ma ho pullato anche per Garnet, ho trovato sia la sua 15 che la sua 35, e ho pullato per lei perché con Garnet e papalimo ho una coverage a livello di elementi eccezionale. Qui quasi quasi evoco, sapete? Evoco? Siamo già a turno 16. No, aspetto, perché non siamo così veloci con Seles. La partita è già andata troppo per le lunghe, questo match solitamente si chiude in meno di 12 turni, però vabbè, non farò oltre 100.000 punti, però spero di fare almeno 80k. In ogni caso sì, stavo dicendo che Garnet e papalimo assicurano una coverage a livello di elementi eccezionale, perché Garnet ha l'acqua e il lampo e papalimo ha il ghiaccio e il fuoco, per cui si copre tutto. Se poi addirittura avete anche Prish, io non ce l'ho e non mi interessa pullare per lei perché non mi piace Prish, è molto forte come personaggio, ma preferisco aspettare la sua ex, non ho fretta di pullarla adesso. Se avete anche Prish avete proprio la coverage eccezionale, o anche un van, anche van aiuta con la coverage. In generale in questo gioco è importante pensare anche agli elementi, perché gli elementi sono molto forti, per cui cercate di avere anche una bella varietà di elementi. Bravo signore che evoca. Non sto commentando il party perché questi due stanno giocando molto bene. Piupiu in particolare. Vabbè che Saz non è che sia difficilissimo da giocare, ma è bravo, sono molto bravi. Quando vedo una squadra così brava si va a spediti e si mena, anche perché questa è una coppia dove si va molto offensivi, come vedete. Lo stiamo bombardando. Qui Selez, vedete perché sarebbe meglio non giocare Shiva. Uh bello questo attacco, sarebbe meglio giocare le evocazioni veloci, perché questa è una coppia, sebbene sia a doppio stage è comunque veloce. Ah niente, Umbro Allies, qui purtroppo Shiva ci rallenta. Bene, con questa coppia ho capito appunto che non bisogna usare quelle lente, però dovremmo riuscire a finire. Gli 80k ce li sogniamo. Ce li sogniamo, sto sperando di fare i 50. Come vedete sto letteralmente cliccando a ogni singolo colpo le abilità di Papalimo, questo è il motivo per cui Papalimo è un mago eccezionale per le copp dove dovete fare pochi turni, in generale per le missioni dove sono richiesti pochi turni, perché è veloce, ha molti usi, per cui andate spediti e finite molto bene. Facciamo un bel boom e godiamoci il festeggiamento del mitico Papa Boy. Ok, nuovo match, questa volta sono con Papalimo e Sera, e devo dire che è un team che mi interessa molto, o meglio che secondo me può funzionare molto, perché siamo molto aggressivi, ma Sera allo stesso tempo ci supporta bene, per cui vediamo come va, sono fiduciosa. Anche perché Sera l'ho vista poche volte, so che ha questo bellissimo attacco che è Moonlight, e tra l'altro dovrei iniziare a studiarla, perché io ho trovato la sua 35 CP da un ticket random, per cui dovrei proprio iniziare a vedere come gioca. Ok, questo Papalimo già lo vedo carico. In questa parte della sfida Papalimo deve cliccare solo una cosa, che si chiama Astral Fire, bisogna bombardare. Esattamente così. Pimba da boom! Questo bisogna fare. Vada Papalimo, mimiti, bravissimi, ecco. Questi sono i giocatori di Papalimo che piacciono a me, quelli aggressivi come dei buoi, perché Papalimo va giocato così. Anche perché, detta come si deve dire, Papalimo non ha attacco. Ma dico davvero, Papalimo non ha assolutamente... Eh, attacco, scusatemi, difesa. Papalimo non ha difesa, e Papalimo è di carta, per cui non si può giocare conservativi con lui. Cosa hai fatto? Ma dovevi ucciderlo? Non ho capito perché ha fatto Brave normale, vabbè. Rimedia Sera. Forse l'ha fatto per non perdere Brave, non lo so, in ogni caso io l'avrei seccato. L'avrei seccato il manichino. Vabbè, tanto siamo ancora a undici. Siamo ancora messi bene. Ok, qui non sto capendo che lo sta facendo quel Papalimo. Era partito così bene, continua ad attaccare. Dovremmo fare comunque un buon giro. Attaccalo! Attaccalo! Bravo! Boom! Così! Brava Sera! Molto, molto, molto bene. Allora, e qui direi che chiudo io? Chiudo io? Bimba da boom! Ok, andiamo all'ultima fase. Qui potremmo fare un buon punteggio invece. Qui chiaramente, opposto dell'altra parte, qui si tira assolutamente Umbra Lais a tutt'andare. Carichiamoci. Sera con Moonlight, tra l'altro, ci alza pure la Brave, per cui siamo contenti. Bimba da boom! Vada anche lei con Umbra Lais. Anche questo è studiato e ha tutte e due le armi di Papalimo complete. Grazie, Sera. Ce l'ho il grazie? Sì, grazie. Sì, mi sono riempita di patachini, ho comprato un sacco di sticker, perché i punti di Cydia sono veramente tanti. E se prima facevo fatica a risparmiarli, perché dovevo comprarmi sempre la Power Stone settimanale, adesso invece sono talmente tanti che ho comprato un sacco di sticker. Credo di avere tutti quelli di Tifa, tipo? Ho tutti quelli di Tifa, uno di Cloud, uno che ho comprato di Locke, lo Yahoo. Quello è carino. Oh, brava, brava, Sera. Ragazzi, dai che possiamo rimanere sotto i 20, Evoka. Dai che possiamo rimanere sotto i 20 turni. Stavolta di skill ne abbiamo molte. Mi è piaciuta questa formazione. Mi è piaciuta. Sera è un personaggio che vi sta discretamente sulle balosche, però devo dire che in Dissidia rende bene. Molto carina. Vabbè, qui bombarda. Bimba da boom! Dai, 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 che ce la facciamo. Ce la dovremo fare al pelo. Al ventesimo turno ce la dovremo fare. Chiudo io? Chiude Papa Boy? E diciamo che chiude Papa Boy. Yes! E niente, questa è stata una first impression della Coop. Mi sembra molto facile. Festeggiamo con fuochi d'artificio. E godiamoci di nuovo l'animazione di Papa Limo. Vediamo quanti punti ho fatto. 89 si poteva fare di meglio, ma sono contenta. Il mio record attualmente credo sia intorno ai 120. Non visualizzati perché l'ho fatto da guest. E questo è quanto per quanto riguarda questa velocissima presentazione, queste prove al volo della Coop di Seles. Chi consiglio per questa Coop? Papalimo chiaramente è quello che vi consiglio di più perché vi permette di risparmiare tempo, di fare le Coop velocemente e di andare come dei razzi. Secondariamente vi consiglio Seles perché comunque aiuta in questa Coop, è molto utile, vi permette di vincere sicuramente ed è in generale un personaggio che sfrutta molto bene il suo boost in statistiche. Il Cavaliere Cipolla che è il terzo bonus ve lo consiglio meno perché purtroppo finché non gli danno l'awakening ovvero il potenziamento fino al livello 60 non ha delle mosse che fanno Brave più HP e i Brave Shaver attualmente non hanno spazio nel meta perché ci sono troppi personaggi che fanno Brave più HP quindi il Cipolla attualmente ve lo sconsiglio. Altri personaggi vi consiglio, Garnet assolutamente perché comunque Garnet è magica, è forte nella prima wave perché vi permette di colpire entrambi gli omini non ha l'elemento ghiaccio ma il boss è debole anche all'elemento acqua che Garnet ha nelle sue tecniche legate al Leviatano per cui anche lei è un'ottima opzione altro dettaglio che non vi ho detto chiaramente l'ho dato per scontato ma ve lo specifico perché comunque è sempre meglio essere precisi Papalimo ha l'Umbra Lies che è una tecnica di ghiaccio per cui è super efficace contro il boss alla fine per cui Papalimo è doppiamente utile in questa coop non solo per il potenziamento dei bonus per il potenziamento delle statistiche ma anche per il fatto che ha la mossa a ghiaccio per cui Papalimo e Garnet sicuramente non mi ricordo se ci sono altri personaggi che fanno danno acqua Faris, quindi sì, potete usare anche Faris anche Faris ha un attacco acqua se no potete andare con i classici Van Saz, Eiko, Sera Saz, Eiko, Sera diciamo che attualmente sono i tre supporti offensivi migliori che potete scegliere Airit anche, non è male ma Airit è meno offensiva vi fa perdere più turni secondo me in questa coop sono meglio gli altri tre in particolare secondo me Saz perché questa è una coop dove volete andare ignoranti e visto che non si usa Ifrit Eiko non è al top delle sue possibilità quindi Saz è migliore nelle coop dove invece si usa Ifrit Eiko continua ad essere eccezionale per la possibilità di mantenervi sempre a vita alta per cui niente i personaggi che vi consiglio sono questi spero che questo video vi sia piaciuto sto cercando di proporvi nuovi contenuti su Dissidia questo non è un gioco facilissimo di cui proporvi contenuti e purtroppo ho anche perso un paio di settimane causa ferie per cui avrei potuto portarvi video dell'Eretic ma non ci sono riuscita spero comunque che questo mio primo video di focus sulle coop vi sia piaciuto e che i miei consigliucci che potete comodamente trovare anche online vi siano utili io vi saluto vi indirizzo come al solito nella mia descrizione al blog italiano dedicato a Opera Omnia è un blog dove troverete informazioni sui nuovi eventi sui personaggi e consigli su chi pullare e chi non pullare se avete inoltre delle domande a bruciapelo che volete pormi ricordatevi che c'è la sezione dei commenti dove io vi risponderò e niente questo è tutto buona coop e ciao ciao ciao